salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi finalmente è arrivato il giorno di fare il test di lui lsg 908 can questo nuovo drone è di casa zlrc che dovrebbe essere diciamo l'evoluzione lsg 908 2 pro che come vi ho portato già nell'unboxing ha delle caratteristiche un po diverse rispetto appunto al 906 2 pro soprattutto per quanto riguarda il peso che è sceso di peso in maniera importante adesso siamo a 530 grammi contro gli 800 grammi circa dellsg 906 e anche la forma è un pochino più affusolata e la fotocamera dovrebbe essere stata migliorata rispetto a quella del 906 perché adesso abbiamo sempre una fotocamera stabilizzata meccanicamente su tre assi ma con un nuovo sensore sony e delle lenti migliori quindi i miglioramenti non sono eclatanti ma sono miglioramenti sicuramente importanti se stiamo in un range di prezzo come questo perché ragazzi parliamo di circa 120 euro quindi con 120 euro vi porto a casa un drone con un gimbal meccanico stabilizzato su tre assi che registra in 2,7 k che ha un'autonomia di volo dichiarato di 28 minuti quindi ragazzi sicuramente un drone super completo per la fascia di prezzo in cui si trova perché ragazzi vi ripeto circa 120 euro però adesso è anche da provare perché comunque ne abbiamo parlato che è l'evoluzione del 906 ma il 906 è un gran bel drone un qualche limite dal punto di vista della qualità video rispetto all'f11 4k pro che diciamo il suo diretto rivale che secondo me dal punto di vista video aveva un qualcosina in più adesso però vediamo come si comporta lui se questa fotocamera è un po migliorata e ha raggiunto il livello delle f11 4k pro anche perché comunque il prezzo qua è sicuramente inferiore a quello delle f11 quindi ragazzi direi adesso di non perdere altro tempo e iniziamo il test del sg908 can ok ragazzi allora per prima cosa andiamo accendere il radiocomando andiamo accendere il drone ok i due dispositivi sono connessi a questo punto dobbiamo per prima cosa entrare nelle impostazioni della nostra rete wifi selezionare la rete creata dal drone vedete xl pro 5g quindi la selezioniamo aspettiamo che l'agganci una volta agganciata questa rete i tre dispositivi sono connessi smartphone radiocomando e drone quindi entriamo nell'applicazione xl pro che è disponibile sia per us per android come vi ho spiegato anche nell'unboxing andiamo ad aprirla ed ecco in questo momento il drone ha suonato perché è passato in mod 2 quindi ha già i satelliti disponibili per decollare infatti ne abbiamo 8 in questo momento per prima cosa dobbiamo andare a fare setting e andare ad attivare se abbiamo disattivato la stabilizzazione elettronica vedete che nella quarta riga abbiamo e stab quindi andiamo a mettere su on perché a noi ci interessa avere attivata anche la stabilizzazione elettronica si prega questo drone a sia stabilizzazione meccanica su tre assi che quella elettronica poi torniamo indietro andiamo a fare i redi qua c'è da fare la calibrazione della bussola e dell'accelerometro in questo caso però farò solo quella della bussola perché quella dell'accelerometro va fatta su una superficie piana quindi bisogna farla a casa sul pavimento su un tavolo altrimenti quando ci sarebbe una superficie veramente piana mentre la bussola va sempre bene calibrarla soprattutto con questi droni economici quando si fa a volare e ogni volta ricalibrarla perché comunque sia diciamo un qualcosa di un po più preciso quindi vedete che andiamo a fare calibrate ok ci dice di fare ruotare il drone quindi classica procedura come tutti i droni sia lo coste che droni che di maggior prezzo quindi facciamo tutte le rotazioni come ci dice l'applicazione perfetto la bussola è calibrata se dovessi fare anche la calibrazione dell'accelerometro basterebbe cliccare su calibration lui inizierebbe a lampeggiare per qualche secondo tutti i led e la calibrazione sarebbe già fatta però ovviamente come vi ho detto qua è meglio non farla e farla a casa quindi andiamo a fare go fly quindi tutto è a posto abbiamo il drone connesso vedete che la telecamera è connessa quindi siamo pronti quindi allora iniziamo il test quindi io farei così allora prima decolliamo guardiamo un po come si comporta in hovering se comunque mantiene quello che erano anche i suoi predecessori che a livello di hovering tanta roba per essere droni economici poi proviamo magari un point of interest quindi girare intorno a un punto di interesse poi lo proviamo un po vediamo come si comporta e poi magari facciamo un piccolo cinematic video in queste campagne brianzole che adesso hanno tutti questi fiori nei campi quindi un'ambientazione semplice ma secondo me comunque affascinante e bella in questo periodo quindi un cinematic video appunto che ci farà rendere conto che poi è quello che interessa la maggior parte delle persone che acquistano questo drone a che livello è la sua fotocamera l'applicazione non ve la sto a spiegare nel dettaglio perché comunque la stessa di tutti i vari sg anche se cambia il nome dell'applicazione ma l'interfaccia è sempre la stessa qua in alto unica cosa volevo dire vedete che abbiamo sd se io ci clicco sopra passo in hd questo è il ritorno video nello smartphone quindi in hd avremo una qualità maggiore nello smartphone se lascio sd una qualità un pochino inferiore però avremo più range dal punto di vista del ritorno video che comunque questo drone a un range che dovrebbe arrivare intorno agli 800 metri di radiocomando mentre il ritorno video secondo me arriverà intorno ai 300 metri poi dipende dall'interferenza o meno comunque 250 300 metri magari 400 esagerare però il ritorno video di questi droni economici che sia questo anche l'f11 4k il ritorno video non è rapportato a quello che è le prestazioni comunque del radiocomando però quello che ci interessano poi è il radiocomando che è quello che ci dà la sicurezza anche per fare il radiocomando se mai dovessimo perdere comunque il ritorno video quindi ragazzi adesso direi di accendere i motori e decolliamo 3 2 1 go perfetto ragazzi il drone fermo in overing direi più che perfetto è praticamente uguale ai suoi fratelli o meglio i suoi predecessori anche se lui è un pochino più leggero però l'overing direi più che ottimo cioè guardate comunque c'è anche un po di arietta questi sono i dati di forecast del meteo che c'è in questo momento e direi che comunque è più che dignitoso anzi direi davvero ottimo e questo già è una cosa importante per un drone economico che deve comunque dare sicurezza a chi acquista questo drone perché magari è il primo drone di chi sta acquistando appunto lui nel radiocomando abbiamo l'impostazione di due velocità di default abbiamo questa che è quella lenta appunto per fare magari riprese video un po' più precise e anche per chi è inesperto sicuramente è la soluzione migliore o altrimenti andando a cliccare il tasto qua speed entreremo nella velocità quella un po' più grintosa e vedete come già il drone ha cambiato le sue prestazioni allora il drone ragazzi vola benissimo lo si sente in mano davvero subito molto molto bene allora ok ragazzi potremmo fare un point of interest quindi girare intorno al punto di interesse mi raccomando la telecamera non tiene inquadrata il soggetto cioè lui gira intorno dal punto dove parte lui si sposta un po' e poi inizia la rotazione quindi io dovrei nel senso venire sopra di me se voglio che io sia il punto di interesse quindi vado a cliccare il simbolo per fare l'operazione poi vado a cliccare se voglio che sia una rotazione verso destra o verso sinistra e poi vado a cliccare la freccia verso l'alto a questo punto vedete che lui si sposta e va diciamo si sposta dal centro che era il punto di interesse per poi andare a creare il raggio girare intorno al punto che era più o meno qua e mi metto qua che dovrebbe essere il punto in cui lui dovrebbe tenermi inquadrato vediamo infatti perfetto vedete che lui adesso gira ovviamente non gira velocissimo però sta facendo benissimo il suo lavoro sono contro luce ragazzi quindi lo so che vi starò bagliando con il sole probabilmente cioè vedete comunque una volta che capite come funziona e da dove dovete partire per dargli il centro praticamente voi selezionate il centro mettendo il drone sul soggetto e poi lui da lì si sposta e fa il suo bel cerchio quindi direi che sta venendo in maniera perfetta vado a interrompere anche perché altrimenti lui continua ecco vado a interrompere ok ragazzi a questo punto direi di fare un piccolo cinematic video appunto per farvi capire trasmettervi come si comporta questo drone dal punto di vista della fotocamera della qualità video quindi ragazzi adesso vi lascio questo piccolo cinematic video e poi ci rivediamo tra poco grazie a tutti 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 Scendo per farvi vedere dov'è Il drone è qua, il landing è là Quindi ha sbagliato di 1, 2, 3, 4 Circa 5 metri Ha sbagliato di un 5 metri Adesso lo faccio atterrare io Perché comunque le batterie ormai sono quasi finite Perfetto il drone alla fine è tornato sul landing No ragazzi è una cosa importante è questa è nelle varie prove che ho fatto di solito sbaglia di un metro e mezzo due oggi ho sbagliato di un pochino di più però non è importante l'importante come dico sempre io soprattutto per questi droni low cost è che tornino da dove sono partiti perché comunque sono droni economici e la sicurezza non sempre è garantita ma con questi SG la sicurezza c'è sempre sia dal punto di vista avete visto Dell'overing del return to home che comunque torna nell'area dove siete quindi al massimo quando una volta che è arrivato nell'area dove siete voi interrompete il landing quindi non lo fate atterrare magari tipo in questa erba alta per non sporcarlo o magari danneggiarlo lo interrompete cliccando il tasto interrompete il return to home e lui si ferma lì in hovering e dopo lo fate atterrare voi manualmente quindi non è assolutamente un problema Ovviamente i DJI atterra sempre sul landing ma la cosa è appunto di un altro livello di un altro prezzo cioè un DJI costa 5-6 volte questo capite che ovviamente il paragone non c'è però come vi ho detto tante volte nei vari test che ho fatto è atterrato a un metro metro e mezzo come fanno poi tutti gli SG o l'F11 4K però può sbagliare di un metro una volta e una volta magari di qualche metro in più Quindi ragazzi adesso spengo tutto e tiriamo le conclusioni di questo SG908 CAN Allora ragazzi il drone come tutti gli SG vola benissimo si comporta benissimo in volo quindi anche un principiante si trova subito a suo agio perché è un drone super equilibrato Dal punto di vista della sicurezza avete visto tanta roba perché comunque è overing impeccabile Return to home ritorno dalla diciamo la location da dove è partito quindi davvero impeccabile dal punto di vista della sicurezza e invece dal punto di vista della qualità video dovete dirmelo voi perché io adesso vi sto parlando Non ho visto come è venuto questo cinematic video quindi scrivetemi voi nei commenti come avete visto il drone appunto nella creazione di un piccolo cinematic video che ho fatto giusto per farvi capire la qualità della fotocamera Perché comunque in questi droni low costa il punto debole è sempre la fotocamera Però adesso stanno anche loro migliorando stanno comunque acquisendo qualità e questo diventa appunto un fatto importante quando si va a acquistare anche questi droni economici Scegliere quello che fa il caso nostro anche dal punto di vista video e foto Quindi avete visto questo piccolo cinematic video avete visto qualche foto che ho scattato niente di che ma che dovrebbe farvi rendere conto appunto come è questo drone nel comparto videocamera Come vi ho detto anche inizio video costa circa 120 euro vi lascio il link in descrizione perché comunque se volete un drone low cost che diciamo abbia qualità interessanti ad un prezzo davvero stracciatissimo Lui fa al caso vostro e come tutti questi droni con caratteristiche video discrete low cost bisogna comunque avere il patentino e l'assicurazione Perché sono droni che pesano sempre più di 250 grammi ovviamente che sia questo che sia l'f11 che sia il 906 il pro 2 il pro max Tutti questi droni comunque pesano il più di 250 grammi quindi hanno bisogno del patentino e dell'assicurazione Poi dopo uno è libero di fare quello che vuole in base anche a dove secondo me va a volare Però dovete sapere che a livello regolamentare bisogna avere queste caratteristiche Poi il range il range ragazzi è un drone che arriva secondo me non agli 800 metri dal punto di vista del controller E invece dal punto di vista del ritorno video come vi ho detto a 350 metri l'immagine si è piantata ma ve l'ho detto già inizio video Il range è dai 250 ai 400 metri poi difende dalle interferenze Però ragazzi anche perché con questi droni low cost non ha senso andare più lontano A parte che si sta già infrangendo il regolamento andando a 400 metri Ma tolto anche questo discorso c'è comunque da valutare che si sta usando un drone low cost Quindi non vale la pena esagerare Però il controller va oltre quindi però dal punto di vista la sicurezza Quello non manca infatti il return to home quando l'immagine si impianta e il drone vi torna da dove è partito I minuti di volo secondo me sono tanti davvero Secondo me si arriva intorno ai 20-23 minuti non ai 28 dichiarati ma a 20-23 minuti si arriva E comunque tanta roba dal punto di vista del divertimento perché comunque iniziano ad essere già minuti importanti Quindi ragazzi in conclusione questo SG908 Cane ve lo consiglio Sì dal punto di vista della qualità del volo Della stabilizzazione in volo Della sicurezza nel return to home assolutamente sì Dal punto di vista video decidete voi se è una qualità accettabile per quello che sono diciamo le vostre esigenze Ma dal punto di vista puramente del drone e del volo assolutamente ve lo straconsiglio Quindi ragazzi se questa mia prova e mia recensione di questo SG908 Cane Il nuovo drone della ZLRC Vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su Seguitemi su Instagram dove porto tante novità curiositante prime di quello che porterò sul canale Infatti anche questo drone è magari arrivato con vari spoiler Comunque tante cose arrivano su Instagram Iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale Ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdevi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità Ciao